Fratelli e sorelle tutti ben ritrovati ci prepariamo alla solennità della Pentecoste come recita la stessa parola Penta 50. Siamo giunti dunque al cinquantesimo giorno di Pasqua, giorno in cui ricordiamo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo alla presenza di discepoli e di Maria. E con questa solennità si conclude il tempo di Pasqua, tempo durante il quale la liturgia ci ha permesso di cogliere lo stile di Gesù, ha tratteggiato il profilo del credente, del discepolo di Gesù risorto. La prima lettura di oggi, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, presenta il racconto di ciò che è avvenuto nel giorno di Pentecoste. Il dono dello Spirito è capace di far comprendere quanto prima non si comprendeva, di rendere fratelli tutti quanti prima si consideravano degli estranei. Sono dei tratti che fanno cogliere che il dono per eccellenza dello Spirito è la lingua dell'amore e riportare all'unità e alla comunione quanto è stato disgregato nell'esperienza della Torre di Babele descritta nell'undicesimo capitolo del Libro della Genesi. Nella Pentecoste possiamo dire che la Chiesa prende forma, riceve forza e spinta per divenire missionaria, strumento di comunione e di unità. Come Gesù stesso ha pregato? Prego, perché come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Da questa consapevolezza sgorga spontanea e incessante la preghiera. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la terra, che sono le parole che noi canteremo nel Salmo in risposta proprio dell'esperienza descritta negli Atti. È un dono dunque quello dello Spirito da accogliere, ma è anche un impegno da vivere. Ed è con questa premessa che vogliamo entrare nel testo del Vangelo. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Il testo richiama il capitolo 14 di Giovanni, quando Gesù aveva rassicurato i Suoi discepoli che li avrebbe preceduti in cielo a preparare un posto per tutti, assicurando che non li avrebbe lasciati soli. Avevo meditato questo tema proprio domenica scorsa nella solennità dell'ascensione. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanca con voi per sempre lo Spirito della verità. Il Paraclito è l'assistente, il consigliere, colui che si affianca senza invadere, ma per darti le possibilità di prendere parola. Anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Lo Spirito dunque ti attrezza, ti spinge, ti manda, ti rende capace di amare come Gesù, di rendere testimonianza all'amore. amatevi come io ho amato voi, dove in quel come c'è il fondamento dell'amore, il modello da seguire, c'è la ragione ultima, c'è la misura, come io. Quindi un amore totale, gratuito, libero, fino alla fine, fino all'estremo, sapendo che questo fino all'estremo contempla la croce. Molte cose ho ancora da dirvi, aggiunge Gesù, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Gesù non carica oltre il dovuto la vita dei suoi discepoli, sa fino a dove sono in grado di portarne il peso. C'è un troppo che non sia in grado di accogliere, eppure ne abbiamo nostalgia. E in tutta la storia della salvezza, in tutta la scrittura, troviamo questo tentativo di fare da soli, di raggiungere questo colmo, questo troppo, con le nostre sole forze. A partire ad Adamo, ma fino all'ultimo, il tentativo di darci delle risposte, di vivere come se Dio non esistesse, sentendoci noi degli onnipotenti. Ebbene, è lo Spirito buono che mi guida, è lo Spirito buono che mi accompagna, lo Spirito interiore che resterà per sempre, sarà quella voce che mi guiderà verso la verità tutta intera. Egli, aggiunge Gesù, mi glorificherà, perché prenderà da quello che è mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quello che è mio e ve lo annunzierà. Gesù ormai è nella gloria. Ebbene, lo Spirito attinge da questa gloria e agisce nei discepoli, animandoli, rendendoli capaci di fare cose grandi, perché inseriti nello stesso rapporto di comunione che c'è tra il Padre e il Figlio. Così nello Spirito Santo diveniamo capaci di mostrarci in una condotta bella di vita. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne, ricorda San Paolo nella seconda lettura, a ricordare che la vita in Cristo rimane comunque una vita di lotta, una vita di combattimento. È la vita. A noi scegliere da quale parte stare, chi abbracciare. A questo punto resta una domanda fondamentale. Ma cosa significa concretamente per me vivere la Pentecoste? Cosa significa come credente vivere secondo lo Spirito? Con la Pentecoste ha inizio il nostro cammino verso il cielo, la nostra ascensione al Padre. Ma devo domandarmi che ricadute ha tutto questo in me. Una cosa è certa, non posso e non possiamo ottenere tutto e subito solo con la nostra intelligenza, con le nostre ricchezze, col nostro potere, anche perché il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Solo lo Spirito rende capaci di vivere una vita all'altezza di Dio. Ve lo ripeto, solo lo Spirito ci rende capaci di vivere una vita all'altezza di Dio e quindi ci rende capaci di amare come Dio. Vedete, capire lo Spirito Santo non è facile. Non riusciamo neppure a materializzarlo o a spiegarlo se non con immagini, con simboli. Pensate la colomba, pensate le lingue di fuoco. Poi certo, lo capiamo attraverso i suoi frutti. La lettura di Galati nella seconda lettura ce li descrive. L'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, tutti questi sono frutti dello Spirito Santo. Ma capire chi è lo Spirito ci sfugge perché in fondo lo Spirito è l'amore tra il padre e il figlio, è uno con loro. Un altro aspetto che vorrei sottolineare, sempre tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, è che lo Spirito Santo è paragonato a un vento che si abbatte impetuoso. Il vento è quell'esperienza che ti fa cambiare le cose, la realtà. Il vento in fondo porta sempre cambiamento. Pensiamo alle correnti calde quando fa freddo o alle correnti fredde quando fa caldo. Lo Spirito dunque è una forza che cambia, che ti cambia e ti cambia da dentro. Entra nelle situazioni, nei cuori, nelle vicende umane, le cambia, le trasforma. Dice una preghiera antichissima. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Questa sequenza che noi recitiamo e cantiamo proprio prima del Vangelo in questa festa. E allora ricevere lo Spirito Santo porta coraggio ai discepoli paurosi. Ricevete la forza dello Spirito Santo e mi sarete testimoni. Lo Spirito sblocca gli animi sigillati, impauriti. Lo Spirito vince le resistenze, vince chi si accontente di mezzi misure e ti rende capaci di dare grandi cose. Lo Spirito Santo dilatta i cuori, illumina le intelligenze, spinge il servizio chi si adagia nella comodità. Ecco, l'esperienza insegna che lo Spirito Santo ti cambia. Non rivoluziona attorno a noi, ma rivoluziona dentro di noi, cuore e mente, e ti libera per affrontare ogni cosa con gioia e con coraggio. Lo Spirito Santo, dunque, un'altra caratteristica, non appiattisce, non omologa. C'è una bellissima preghiera di San Cirillo di Gerusalemme, il quale ricorda come l'acqua della pioggia discende dal cielo e scende sempre in modo uguale, eppure non cambia, non trasforma. Ciascuno rimane nella sua bellezza. Pensiamo ai fiori. La pioggia non scende diversa, non cambia a se stessa, ma si adatta. La margherita rimane margherita, il giglio rimane il giglio, la rosa rimane rosa e così fa con ciascuno di noi, non ci omologa, ma valorizza. Fa emergere l'originalità di ciascuno. C'è chi è dedito alla carità e chi è dedito all'insegnamento, chi è dedito al lavoro, chi è dedito allo sport. Non c'è invidia, non c'è volontà di arrampicarsi, di sopraffare sugli altri. Perché lo Spirito Santo non ispiri i pepegolezzi, direbbe Papa Francesco, ma educa al linguaggio dell'amore. Questo fa lo Spirito Santo. E allora è quel maestro interiore che guida alla maturità, che non offre risposte, ma suscita le domande più belle, più vere. Non educa alle cose banali, ma alla verità tutta intera. E più ti avvicini, più la tua vita diventa parola vivente. Tanti sono gli spunti in questo giorno di Pentecoste. Noi vogliamo chiedere veramente il dono dello Spirito Santo, perché risvegli in noi la passione per la vita, la passione della vita, perché il Signore ci renda veramente originali in un tempo in cui veniamo appiattiti, omologati dalla società. E guai a te se non ti omologhi agli altri. E invece no, lo Spirito Santo vuole fantasia. Carissimi, allora uniti nella preghiera vogliamo chiedere al Signore il dono nell'unità, della concordia, dell'amore, per poter essere veramente credibili nell'amore. La liturgia di fronte a tutto questo ci fa pregare in questo modo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa, cioè la rendi alla tua altezza, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi, nel cuore dei credenti, i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana e ricordiamoci vicendevolmente nella preghiera in questo giorno chiedendo veramente a Dio che ci doni il dono dello Spirito Santo, che ravvivi i nostri cuori, le nostre menti, le nostre amicizie. Vieni Spirito di Dio, irrompi nel mio cuore e accendi in esso il fuoco del tuo amore, perché comprenda che il Signore Gesù infondi luce al mio intelletto, perché gusti la tua parola infondi calore al mio cuore, perché veda la sua salvezza infondi limpidezza ai miei occhi, perché compia ciò che lui chiede infondi coraggio al mio animo. Vieni Spirito di Dio, irrompi nella mia vita e accendi in essa il fuoco del tuo amore.